Le vedete queste monete? Qualcuno ci vede delle suore. Ma andiamo con ordine. Nell'ultimo episodio abbiamo letto la pagina del Codice Atlantico in cui Leonardo descrive un gioco di prestigio. Quando voleva parlare di illusionismo, lo scienziato si rivolgeva a un matematico appena più vecchio di lui. Si chiamava Luca Pacioli ed era un grande esperto di prestigiazione. Conosceva così tanti trucchi magici d'averci lasciato un poderoso manoscritto, il De Viribus Quantitatis, pieno di effetti di cartomagia e lettura del pensiero. A volte provo a immaginarmeli mentre parlano di magia o si scambiano un trucco, ma se vogliamo cercare prove documentali bisogna mettere a confronto i manoscritti dei due. E il libro di Pacioli è una fonte continua di sorprese, per un motivo in particolare. Di questo libro abbiamo solo le bozze. Ci sono poche figure. Lui lasciava gli spazi per le illustrazioni, pensando che un giorno le avrebbe aggiunte. Per di più ha scritto solo alcuni capitoli, ma ci ha lasciato l'indice con il piano complessivo. Se cerchiamo il gioco delle monete descritto da Leonardo, non lo troviamo. Sarà in uno dei capitoli che non ha scritto? Consultando il sommario troviamo i titoli dei capitoli ancora da scrivere. Uno di questi è veramente assurdo. L'abate che controllava le monache contandole sera e mattina su ogni lato del monastero che da queste fu ingannato e che dovette andarsene disperato. Ma che gioco di magia può essere? Io seguo la lezione di Robert Darnton, secondo cui quando si legge un libro antico, quando non riusciamo a cogliere il senso di un proverbio o di una battuta, sappiamo di essere sulla buona strada. Sollecitando il documento là dove è più oscuro, possiamo forse dipanare un sistema di significati a noi estraneo. Il filo potrebbe persino portare a una visione del mondo inconsueta e meravigliosa. Luca Pacioli annuncia il capitolo nell'indice, ma non lo scrive. Come possiamo leggerglielo nella mente 500 anni dopo la sua morte? Si fa quello che Guglielmo da Baskerville fa nel nome della rosa. Quando un libro o un capitolo va perduto, lo si può ricostruire leggendo altri libri. Per esempio il primo dei quattro volumi delle ricreazioni matematiche di Jacques Ozanam, dove si parla di un convento di suore biricchine. Nella mia edizione a pagina 172. Il convento è quadrato ed è composto da nove celle. In quella centrale abita l'abate, che fa anche il custode. Quando è ora di andare a dormire, l'abate conta le suore. Ce n'è tre in ciascuna delle otto celle per un totale di nove monache su tutti i quattro lati. 369, 369, 369, 369. Vi ricorda qualcosa? Volete dare una sbirciatina al quadro A sul manoscritto di Leonardo? Quando il custode si è addormentato, quattro suore scappano dal convento e chiedono alle consorelle di coprirle. queste, quindi, si riorganizzano spostandosi da una cella all'altra. Nel cuore della notte il custode si sveglia e verifica che sia tutto a posto. Contando le suore che si trovano su ogni lato, si tranquillizza. Sono sempre nove. 41549, 41549, 41549, 41549, e 449. L'uomo non si accorge della fuga e torna a dormire. Questa disposizione vi ricorda qualcosa? Volete dare una sbirciatina al quadro C sul manoscritto di Leonardo? Mentre il custode dorme, le quattro fuggiasche rientrano in compagnia di due uomini a testa. O donne, vale qualsiasi orientamento. Insomma, rientrano in dodici, hanno abbordato gente e per essere generose ne hanno anche per le consorelle. Le suore si riorganizzano, fanno spazio ai nuovi entrati e si ricollocano nelle stanze in questa maniera. Questa disposizione vi ricorda qualcosa? Volete dare una sbirciatina al quadro B sul manoscritto di Leonardo? La mattina, quando si sveglia, il custode conta di nuovo le monache per verificare che sia tutto a posto. 17819, 17819, 17819, 17819. Sono sempre e nove per lato. Ma alcune di loro, sotto il velo, hanno bicipiti da marinaio, folti baffi e una strana protuberanza sotto i pantaloni. Come la intitolereste questa storia? Tipo l'abate che controllava le monache contando le sera e mattina su ogni lato del monastero che da queste fu ingannato e che dovette andarsene disperato?